da 5 a pagina 305. Ci siamo? Sì. Perfetto. Prima di passare alla seduta notturna, io adesso prendo i pareri, quindi non ci saranno votazioni dopo i pareri, per chi volesse intanto uscire, per chi volesse lasciare l'aula. A questo punto, onorevole 40 e onorevole Lombardi. Prego. Allora, 14.1, 14.2 identici. Chiedo alla cortesia di non passare davanti ai relatori. Ecco, questo magari... Guarda qua. Colleghi, per una questione di educazione, non passare davanti ai relatori mentre danno i pareri. Allora, 14.1, 14.2. Sella. Favorevole. Mi rimetto all'aula. 14.4 centemero. Contrario. Contrario. 14.5. Favorevole. Alberti, favorevole. Favorevole. 14.8. Favorevole. Favorevole. 14.9. Contrario. Contrario. 14.9 ci informano che è ritirato. 14.10. Favorevole. 5 Stelle. E' il 40. 18.10. Cioè, il 40 è il primo firmatario. Sì, 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 no, ho capito. La storia è già nella storia di parole da riduzione con le seguenti del sistema. E' a pagina 296. Sì, 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 si, aula. Grazie. Grazie. Grazie.